Per Beppe Grillo una polemica al giorno, ieri quella col fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari che lo accusava di guidare una campagna di destra contro i partiti e le istituzioni e di mandare a rotoli il paese, pennivendolo, replicava Grillo sul blog. Oggi quella col presidente del Consiglio, Enrico Letta, materia della nuova polemica, il cosiddetto bonus giovani, quello destinato alle aziende per l'assunzione di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, quella che Grillo definisce la tanto sbaglierata misura che avrebbe dovuto garantire 200.000 assunzioni e che ha fallito miseramente come qualunque persona di buonsenso aveva previsto. Altro che inesattezze attacca ancora Grillo con questo articolo stamattina sul suo blog, in realtà la gaffa è tutta diletta che, secondo Beppe Grillo, ha sbagliato conti e previsioni. Risultato? Niente lavoro ai giovani, un fallimento. Ma su questo fronte il presidente del Consiglio non ci sta. Disfattismo, dice Letta, perché la situazione occupazionale giovanile rafforza la convinzione che questa debba essere la nostra priorità. Io non mollerò, assicura Letta, e ciò a dispetto di chi leggi Grillo non riesce a non criticare chi cerca di agire e di fare. E questo quasi solo per la soddisfazione di vedere le cose andare ancora peggio. Insomma, un disfattista che gioca allo sfascio, al tanto peggio, tanto meglio. Di Celetta, i 14.000 giovani che in queste settimane hanno trovato lavoro sono lo stimolo ad andare avanti. Fine della polemica, più che altro, fine della prima puntata.